La guida tecnica numero 29 dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce quali sono i criteri di localizzazione per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Come si fa ad individuare il sito che ospiterà questa infrastruttura a partire dai criteri? Il Decreto Legislativo numero 31 del 2010 prevede che sia SOGIN, la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, a elaborare una mappa delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito. Una volta elaborata, SOGIN consegna quindi la proposta di mappa, che viene denominata dalla legge CNAPI, Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, all'attuale ente di controllo ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione. Il compito dell'ente di controllo è verificare la corretta applicazione dei criteri di localizzazione. Il risultato del lavoro di verifica viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente, che decidono quindi sul nulla osta definitivo a SOGIN per la pubblicazione su Internet della CNAPI, a prendo la fase di consultazione pubblica. La proposta di CNAPI, infatti, individua una serie di aree potenzialmente idonee. Dopo un lungo percorso di consultazione e di dibattito con i territori interessati, solo una fra queste aree è scelta per ospitare il Deposito Unico Nazionale per i rifiuti radioattivi italiani. Grazie a tutti.